La nostra storia inizia nel 1994, quando decidiamo di inserirci nel settore finanziario per offrire a famiglie, pensionati e giovani lavoratori l'opportunità di richiedere finanziamenti e rendere finalmente quel sogno nel cassetto realtà. L'andatura del settore bancario a sfavore dei cittadini è stata decisiva e ha consentito a tutti noi di comprendere appieno l'importanza dell'intraprendere questa missione. Con il tempo ci siamo specializzati nel settore delle attività creditizie a favore di pensionati e dipendenti, sia pubblici che privati. Da oltre 20 anni offriamo supporto ai clienti con soluzioni di credito personalizzate, studiate per permettere a chiunque di realizzare i propri sogni. Soluzioni semplici e innovative in linea con le esigenze dei singoli. La famiglia di Prestimuto è cresciuta e ad oggi vantiamo di un team di professionisti del settore abilitati a norma di legge, con esperienza e comprovate capacità nel campo del credito. Nel corso degli anni la società ha saputo diversificare la propria attività e oggi gioca un ruolo di rilievo in tutte le categorie offerte. La nostra mission è di offrire ai nostri clienti un servizio innovativo, proporre soluzioni di valore e soprattutto rispettare le singole esigenze per raggiungere nel minor tempo possibile gli obiettivi prefissati. Nostra precisa intenzione è il rispetto della privacy ed ascoltare le esigenze finanziarie per trovare il migliore tasso per prestito e la più rapida erogazione. Siamo consapevoli del valore del nostro operato e dell'importanza di offrire un servizio che sia alla portata di tutti.